Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale RESTLING Continuiamo con DuckTales Eccoci Allora Questo l'abbiamo già visto quindi salto Abbiamo fatto l'altra volta miniere africane Adesso andiamo avanti e faremo Penso Himalaya Vediamo che cosa c'è Himalaya signori Si Iniziamo subito e vediamo che cosa c'è Oh Gengis Khan Oh Gengis Khan Gli, posso chiamare Luca Scrooge? Voglio vedere il bello Himalaya Oh, non questa volta, figlio Ho bisogno di guardare i ragazzi Oltremmo chi sa che tipo di problemi si vengono dentro Oh, è molto smart Luca Scrooge Mi riuscirà, ragazzi L'ultima cosa che questa spedizione ha bisogno è un po' di ragazza Giusto Eh Pure i ragazzini in mezzo alle bolse non ci sembra il caso Vediamo un po' com'è questi Himalaya signori Sono molto curioso Oh, carino Launchpad 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 Simpatico Sempre molto simpatico Zio Paperone E ora riuscirai questa spedizione so che si può arrivare in aeroporto E passateci, ragazzi Io ti pagare per l'ora E l'armista ti pagare per me per l'ora Non c'è problema, boss Nel tempo che ho questo regolatore di combustibile Siamo così bui come... Upsi daisi Eccola Non ce l'hai più Upsi Ma mia mamma sempre diceva che io ero una Butterfingers Oh, no Por favor, mi ha detto che hai un altro di questi Certo, lo faccio Ma è back in Duckburg Launchpad Non preoccuparti, signor McD Io andrò andrò Non farei nulla cosa Io andrò Tu resti qui E provi a non causare più damage Ok Ok Boss Vai, va Ah, pure lei Quindi quella qui qua qua No Uh Ah, non posso Ah, ok Qui non si può usare il bastone Uh Sì, vabbè Sì, ciao Sto coso qua Sì, vabbè Fammi vedere un po' qua dove ho mannà No Della dove ho mannà Della quattro è più dura Buh Ehhh Fium Oh, non vedi chi c'è sta No No Oh Oh Murti Eh Eh E mo Oh, è troppo tardi Questi banditti di bambini hanno tornato a partire Ho dovuto trovare questi pezzi, veloce Ok Quindi Ora, dobbiamo andare di là Ok, quindi dobbiamo andare pure indietro All'andata Buh, vabbè Oh Dio Oh Dio Daie Ci abbiamo sei cuori, signori Allora, uno funziona qua Che deve andare dritto Eh, eh sì Per forza Perché semmo poi Vabbè Oh Sto burino Sì, vabbè Bipì Bipì Allora Allora Ah, oi, oi, eh, eh, com'è? Scusami Scusami, come non ho visto? Dai batte la pesca Ah mi sono auto accoppato Eh dai Che pippa al sugo ragazzi Dai Allora Oh non sono riuscito ancora a tornare mezzo Porca paletta Letta porca Ma dai su Pippa al sugo Come c'è arrivo lì Ah sto Sto coso E' complicato Ah ma Vabbè Io lascerei perde Guarda un po' Ahia Oh Oh vedi chi ci sta Ok qui siamo tornati Ovviamente indietro Eh vabbè Ah ok ecco come era Eh Ah 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 Unanguolo Il cuore feme Ciclo Il primo Ah Dei Giust Reality Si Scegliere Guardare Sto Giuse Devi Sulla Ah Giusto Ma Ricordiamo L'ampRadio Il D Absolido Il Cosa E Che Cosa Giuse No No Snow Le Non Alla Che Qu' Fantastico E vabbè, e allora Allora, sì, andiamo di là Allora, a questo punto Yeah Dai Ok, andiamo giù Andiamo ancora più giù Eh, però io non l'ho trovato Cavaletta Ok Ok Come on, lady Buongiorno Bocca, isannato Ok Eh, eh, io quello però Non l'ho visto Eh, eh Cioè Ma butto giù Che devo fare Ah, yeah Ah Ho capito Quindi so Ok Ok Ma porca Cavaletta Ma l'ho preso Quello, sì Gatsby Kiltz È Bubba È Bubba È bubba È bubba È bubba È bubba Oh, cosa succede? Scrooge? Uga Uga! Scrooge salva Bubba! Ecco, ecco, piccolo figlio. Il padre Scrooge è qui per aiutare. Scrooge salva Bubba! Scrooge salva Bubba! Scrooge salva Bubba! Bubba aiuta Scrooge! Bubba aiuta Scrooge, sempre! Ok! Potrei usare un po' di aiuta a scrooge la scrooge salva. Che dici, Bubba? Uga Uga! In questo caso, seguimi, ragazzi! 2 3 3 4 5 5 quell'altro sta ok è là sopra daia 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 launce pot is wait to take you home to that book on your way now Oh 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 Dai eh E mo ho capito come funziona Ok dobbiamo tornare di là Perfetto Ok si Ah no Ah ye C'ho dei sei problemi con sti cosi Ok Eccolo No Quindi ora be torna su E di là Sì Oh 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 I am one Questo non mi piace Oh 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 no ce ne t'ava dai eccoci uga uga bofalo ricasca un'altra volta ah i e ah 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 Ah, peggio Bene Siamo a un 14 E chi è questo? Grazie a te, MacDuck Especialmente perché mi ha portato il traccio A cui, D'Alma, grazie Sei un pilota idiotica O aveva giocato in sicuro e lasciato quei due v-1 Flippi Tu fai fai Solo tu potresti scegliere così low Ho finito a 15.000 feet, no less Complain all you like Ah, guardi pietra, fame d'oro Ma chi se lo ricordava? Oh 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 Scrooge! Passi un profetto su questo, Macduck! Passi, Macduck! Dai! Tiè! Piè porta a casa! Giusto! Dai! Prendi il passaggio! lentamente e forte questa volta! Non c'è problema, signor Macduck! Siamo vicini a questo piacere adesso? Posso quasi sentire! Non mi era! Quindi cosa era? Questo definitivamente non mi era! Cosa che sia, non ci durerà molto tempo se si cercano di entrare tra me e la scuola perdita! Ancora Scrooge! Non vieni! Non ti preoccupi, Lassi! Cosa che sia nella cava, non è molto per il tuo Ancora Scrooge! Ho otto la mia fortuna per essere più o meno che i più o meno che i più o meno che i più! Se tutto ci sia l'interno, dovrebbe andare a prendere! Ma sono scoperta! Restate con Launchpad! Il prenderà bene di te! Restate con Launchpad? Dice! Oggi, ora sono troppo bella! Oddio, adesso sono molto bella! Sono morto subito! Hey! Guardate! non ci avaccio merda no vabbè quella pure si è buttata da sotto eh vabbè oh ce l'ho fatta per un pelo signori ah ma c'è su children and billionaires first Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora? Grazie a tutti. 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 Ciao e alla prossima.